Dagli studi di Activision, ecco a voi CTR-TV! Salve, sono Chick e qui con me come sempre c'è il mio amico Stu! C'è grande entusiasmo nell'aria, Chick! Odora di noccioline sgranocchiate al circo, benzina e traumi infantili! Questo sarà un festival-wom-tastico! Abbiamo anche un gioco nuovo di zecca in arcade locale! La caccia agli anelli! Dovrai riuscire a raccogliere quanti più anelli possibile e acquistare velocità prima che il tempo scada! Beh, sarà di certo un grande spettacolo! Ma bando agli indugi, andiamo subito a conoscere le stelle di questa stagione! Darò una lezione a Cortex! Il segreto è tutto nella dieta! Azzartati a sorpassarmi e ti farò finire caput! Più che stelle mi sembrano comparse, Chick! Ma forse con questi nuovi kart riusciranno a salire alla ribalta! Kart così emozionanti che vi manderanno dritti al pronto soccorso! Lo giuro! E per oggi è tutto, gente! Ci becchiamo alla prossima edizione di CTR TV! Ciao!